Per la Lazio, Jugovic, la batte lui, su Mancini, fermato Jugovic, palla in mezzo, Bocic, attenzione poi possibilità per la Lazio, palla in rete, Fuserra sulla torre di Bocic, ferma la difesa dell'Inter e va a realizzare Diego Fuserra, Lazio in vantaggio al venticinquesimo del primo tempo sull'Inter. La torre di Bocic e lo spunto di Diego Fuserra che si è trovato solo davanti a Pagliuca, impossibile per lui sbagliare, Lazio in vantaggio, in un momento in cui la partita pareva tranquilla, Lazio che passa dunque, rivediamo, vedete, aggira Fresi, Fuserra e poi riesce con il sinistro ad angolare quanto basta per mettere fuori causa Pagliuca. La gioia di Diego Fuserra, Lazio in vantaggio, rivediamo da altra angolazione. Tutto pronto? Chiede la distanza Fuserra, tanto palla in mezzo, Bocic, 2-0 per la Lazio, spunta Bocic davanti a Pagliuca e mette dentro 2-0 per la Lazio. Nel giro di poco più di 3 minuti, micidiale 1-2 per la formazione di Sven Goran Eriksson e adesso la partita è davvero in salita per l'Inter. Alen Bocic, 2-0, sfrutta al meglio la punizione di Fuserra, rivediamo dalla telecamera posta alle spalle di Pagliuca. Fuserra che sfugge al controllo della difesa nera-azzurra e mette dentro. Su Mancini, quasi come nel basket, fra Presi, poi attaccato da Casiraghi, attenzione, parte Casiraghi, Casiraghi e palla in gol ed è 3-0 per la Lazio. Incredibile errore di Salvatore Fresi, che già ha parzialmente sulla coscienza il primo gol della Lazio nel primo tempo, quello realizzato da Fuserra. È stato lui a lasciare scappare Fuserra e adesso incredibile l'ingenuità di Salvatore Fresi, che ha sbagliato in una zona in cui è vietato perdere palla, si è involato Casiraghi. Colpo sotto e palla che ha scavalcato in uscita Pagliuca, guardate incredibile l'errore di Fresi, attaccato da Casiraghi, non commette fallo Casiraghi e poi molto bello il suo destro con palla che si alza di quello che basta per battere Pagliuca in uscita 3-0.